Se un consigliere comunale di Merano alla fine della legislatura fa ancora una mozione dopo che per cinque anni ha fatto niente, è solo una mossa elettorale. Perché chiede alla fine della legislatura, un gruppo di lavoro che si deve interessare di creare delle strutture universitarie per medicina e giurisprudenza a Merano è un assurdo. Meno male che il Presidente del Consiglio Comunale di Merano che ha fatto la mozione l'ha ritirata come sentite. Sono intervenuti, visto che avete usato parole anche di condivisione verso questa mia proposta. Devo dire che per quanto riguarda invece l'altra volta, io l'altra volta ho detto siccome aspetto risposte da persone del settore, persone esperte nel settore, oppure avrei voluto invitare una persona del settore. Nel frattempo ho avuto questa risposta, condividevano la mia scelta, è un'idea che dice ottima, è un'igregia però bisogna un po' vedere. Allora sì, io ho fatto presente al Consiglio e dico signore, perché per questo motivo doveva venire una persona non è venuta. E siccome sono state fatte delle osservazioni, dice ma perché inviti una persona esterna? Ma chiunque può invitarlo, è previsto dal regolamento signore. Chi l'ha detto? È previsto dal regolamento quindi una persona esperta, una persona esperta. Allora, va bene, va bene. Allora, visto così io intendo ritirarla definitivamente.